Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti noi di Chef Franco Vi voglio far vedere cosa mi hanno regalato ieri Funghi porcini E con i funghi porcini cosa si può fare? Facciamo un gran risotto con i funghi porcini Vi faccio vedere gli ingredienti, pochi ma buoni Sedano Mettiamo due pomodolini Carote Cipolla Facciamo un brodo a parte Mamma, ieri li ho puliti Erano piene di torreni Però vi dico la mia Qualche sciacquate gliel'ho fatta, non vi nasconto Avevo dimenticato di dirvi Riso Carnaroli 320 grammi Però mettiamo dentro Facciamo sempre a metà Questo è un brodo a parte per fare un buon risotto ai funghi porcini 1, 2, 1, 2 Mettiamo sedano Sedano, carote, cipolle, 2 pomodorini Va benissimo Ecco qua E per ultimo ci metto due pomodorini Quelli là del Piannolo Vi voglio sempre ringraziare a tutti per i video che faccio Mi seguite intanto, mi volete bene Voglio Facete sempre contento Pomodori Ora facciamo i funghi E uno E uno, e uno, due Vai, va deca Io li pulisco bene, che ho sempre paura Anche se questo non si toglie Però Belle, 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 belle Questi qua che ho tagliato prima Che ho tolto Li mettono nel brodo Per farci vedere che sapore Ecco qua Vedete? Allora, mettiamo olio Quando basta Funghi Mettiamoci un po' di sale Nel frattempo Prezzemolo Si potrebbe sfumare pure con un po' di vino bianco Però Non voglio perdere il sapore del fungo porcino Vi dico la verità Al limite lo mettiamo nel risotto Gocce di burro ci vuole 24 mesi Stagionatore Ovviamente il risotto si può fare con tanti tipi di funghi Non è che da prendere i funghi porcino Però il fungo porcino È abbinato proprio Per fare un buon risotto Una buona tagliatella Fatemi sapere nei commenti dopo Guardate che bel brodo Guardate qua Bellissimo Prendo dei funghi Un po' di parmigiano Li frulliamo Allora ragazzi Riso Cominciamo a tostare il riso Vino di Giovanni Facciamo riscialdare un po' la pentola Mi raccomando dei commenti Questo è il riso carnaroli Vino bianco Va bene così Cominciamo col brodo Sale Poco alla volta E poi assaggiate man mano Eccoci qua ragazzi Mancano un paio di minuti Siamo pronti Crema Questa crema Di funghi porcini Viene uno spettacolo Siamo più forti Ci sono più forti Ci sono più forti Funghi porcini Il semolo Burro 1 2 Parmigiano Come se non ci fosse domani Spettacolo Spettacolo C'errbo Né C'errbo La questo qua è il mio risotto con i funghi percini vi spiego tutti i passaggi che ho fatto ho fratto un brodo a parte sedano carota cipolla e dei pomodorini dentro poi ho tostato il riso col vino bianco i funghi con aglio prezzemolo e olio ho fatto una crema a parte che a metà cottura sui dieci minuti di cottura ho messo dentro ho mantecato con un burro e pramigiana che già che vedi se non è spettacolo ragazzi è arrivato il momento di assaggiare purtroppo il mio assaggiatore di fiducia voi lo sapete cristiano massimino il piccolino mio a scuola assaggio io però dopo mi metto dietro le quinte voglio vedere quando uno assaggio come si vede dall'aternale io faccio l'assaggio buonissimo buonissimo io non ti chiedo nulla ci manca cristiano massimino io non ti chiedo nulla chiudi gli occhi devo chiudere gli occhi e vedi si stava in montagna rosso però poso la forchetta allora io faccio così prendo questa parte qua prendo il prezzemolo prendo il parmigiano faccio un bel boccone guarda qua chiudiglio massica prima massica bene e senti tutti i sapori eccezionale però da ci fanno un richiamo eh cristiano quando vieni nella camera sempre un bacio ma lo saccio che tu vieni 23 anni ti sei fatto grande il bacio ti ha avvidenzato tu si ma un merito papà ma sono troppo preso da ricciata come sarebbe allora voglio adesso è il periodo dei funghi il risotto penso sia perfetto con i funghi porcini ma lo sapete pure fare assolutamente assolutamente fuori sotto buono lo devi saper fare e ci vogliono ingredienti di qualità buoni e vi esce fuori un piatto eccezionale va bene anche i funghi congelati questi qua mi li hanno regalati ma che si costano 40 euro al chito chi tenava possibile di prendere questi funghi qui sono qualcosa di incredibile un risotto cremosissimo ci stiamo mangiando ma diecellote diecellote allora ragazzi voi sapete il nostro motto è uno spettacolo è uno spettacolo mangia 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 ci sta è uno spettacolo se il video vi è piaciuto battita andami piace se non vi è piaciuto non è battita non va niente io io penso che questo video se lo merito questo risotto merita ragazzi la cosa bella è che noi ci divertiamo se ci avete il tempo qualche amico importante a casa di domenica questo è il top fate un figurone un figurone noi diciamo sempre alla fine del video sim the best we we go ci vediamo in un prossimo video una prossima ricetta consigliateci qua sotto qualche ricetta che volete vedere magari siamo nel periodo di autunno qualche altra ricetta con i funghi se la volete vedere zucca pure ci sta ieri sera era buonissima scrivete qua sotto nei commenti che vi leggiamo we we go ciao 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 Grazie.